La stazione di Vestron sono sopravvissuti all'alluvione. È il posto più sicuro al mondo. Ci sono i missili qui. In realtà, solo uno. I missili non serviranno a fermarli. Chi dovremmo fermare? Squali. Con il discioglimento c'era stato un aumento del numero di pesci. Il pesce che lo mangia diventa cibo per quello più grande fino ad arrivare allo squalo. L'oceano sta morendo. Compresi naturalmente anche i predatori più grandi che non hanno più niente da mangiare. Cercano cibo in superficie qualunque cosa. Dobbiamo lanciare il missile subito. Reggiti forte! Andiamo!